Benvenuti amici, buona serata, come al solito casa caffè quando il venerdì alle 20 spunta, oggi puntualissimi fra l'altro e quindi congratulazioni anche alla regia e il venerdì a fare che cosa però? A dare qualche indicazione su come passare il weekend, su cosa andare a cercare in giro, su un'ispirazione, un'ispirazione che serve sempre, può essere musicale, può essere teatrale, può essere anche di sola ispirazione, adesso anche per riposarsi e andare a vedere qualcosa di utile, questa volta però abbiamo un evento molto importante, fra l'altro che è la prima volta che ne sento parlare, credo sia anche la prima volta che viene fatto un evento di questo genere qua, perché andiamo a unire due culture ed è una cosa che ci presenta però un gruppo che abbiamo avuto in passato già che è in Cantarte, andiamo a vedere i nostri ospiti, grazie. Allora, Carina Onian la riconoscete per forza e d'altronde l'amico Dorella per esempio che di solito Luciano è quello che mette tutti i posti, abbiamo visto anche il tuo, veramente molto bello e questa sera però facciamo cominciare a Luciano perché ci spiega questa idea come è nata di unire due culture, metterle vicino, fare uno spettacolo di questo genere qua, perché è la prima volta che vedo avvicinare questi due modelli di cultura. Sì, innanzitutto buonasera e un grazie ai nostri ascoltatori e al tuo invito Claudio qui in trasmissione. Sì, noi effettivamente presentiamo domani a Trebaseleghe un incontro tra due culture, cioè da Jerevan a Venezia, che non è altro che la storia di due popoli tra i più antichi d'Europa, quindi il popolo veneto e il popolo armeno, dove in questa situazione si troveranno insieme armeni, artisti armeni e artisti veneti per far conoscere la propria cultura e la propria storia rispettiva di ogni paese. Il tutto unito da uno storico che è Davide Lovat, un grandissimo storico soprattutto per quello che riguarda anche le opere a livello sacro e soprattutto anche la storia della religione, quindi dei due popoli, quindi sempre religione cristiana ovviamente. Il tutto è condito da uno spettacolo, quindi è divisa in tre parti questa giornata, quindi dalle ore 17 che si incomincia, dura ben due ore abbondanti e quindi sarà divisa in tre parti, la prima parte storica, la parte centrale è uno spettacolo e la parte finale è l'altra parte storica e quindi è un percorso dall'inizio fino ai giorni nostri, si potrebbe dire, di questi due popoli. Questo spettacolo è stato anche patrocinato dall'ambasciata, armenia d'Italia e la cosa più interessante è che da questo punto di vista non era mai stato fatto prima, cioè semplicemente spettacoli su Venezia e gli armeni sono già stati fatti, cioè gli armeni sono qua circa dal 450 d.C., quindi praticamente essendo il primo popolo che come stato ha preso la religione cristiana, però anche dopo, subito dopo l'accoduta dell'impero romano, noi abbiamo avuto molto la presenza armena. Poi verso la fine del secolo, quindi nel 1700, si è stabilito più fortemente nel Veneto, tra cui Venezia darà anche ricovero e quindi abbiamo un legame molto forte. La cosa divertente è che però nessuno aveva fatto un discorso di perché questi due popoli sono tanti secoli insieme, cioè si conoscono questi due popoli, in realtà era sempre che gli armeni si facevano conoscere, che erano a Venezia, ma non che gli armeni conoscevano anche i Veneti. Paradossalmente è stata una cosa che sembra semplice, però non l'aveva mai fatta nessuno. Allora giustamente abbiamo preso questa iniziativa di avvicinare queste due realtà ed è uscita una cosa molto interessante, tanto che l'ambasciata si è interessata di questa cosa. La cosa più divertente è che abbiamo parlato con l'ambasciatore, gli ho spiegato perché avevo detto che da noi in Veneto essere gli armeni è anche un nome di un frutto. Ah sì? E che frutto? Da noi gli armeni hanno portato gli armeini, cioè le albicocche, perché armeni dell'Armenia e le pesche della Persia. La lingua veneta ha un senso, anche perché si impara sempre qualcosa in questo modo, ma è interessante proprio questo cammino che ha portato a Venezia e poi tante cose in comune allora, vissute nei secoli insieme. Sì, sì, tantissime. In realtà, dopo ovviamente la storia del popolo armenio è un po' più complessa, chiaramente perché è un popolo che poi è stato diviso, il suo stato non esisteva più e quindi è diviso in 4-5 nazioni, insomma è un po' più complessa, mentre i Veneti sono sempre rimasti al suo posto. Infatti il popolo Veneto da 3.500 anni si chiama Veneto, mentre i francesi prima erano i Galli, poi i Franchi, poi i francesi, noi siamo sempre stati i Veneti. E questo è. Eh sì. Ecco, carina, tu sei ovviamente la parte deliziosa nella voce, soprattutto, perché da buon mezzo soprano interpreti e lo fai con tutti gli spettacoli di Incantarte, quindi anche questa volta tocca a te. Però so che canti bene anche in Veneto, ma come abbiamo fatto con l'armeno? C'è anche qualcosa da cantare in armeno? Ovviamente, ovviamente, ma io canto il repertorio armeno da più tempo che il repertorio veneto, ovviamente, perché io sono nata in Turchia, ma sono andata alla scuola armena e dopo quando siamo andati con la mia famiglia in Francia, sono cresciuta in Francia ovviamente, ma c'è una grandissima comunità armena lì. Siamo a mezzo milione di armeni in Francia e ovviamente facciamo tanti eventi, cantiamo tanto. Io andavo a cantare la messa armena ogni domenica alla chiesa, due ore e mezza di messa. Caspita! Durante almeno dieci anni ho fatto questo, perché mio papà dirigeva la corale, la mia sorella suonava l'organo, facevamo la messa a tre voci, prima voce io, la mia sorella seconda voce e il mio papà la terza voce. Faceva un po' un concerto ogni domenica. Però se vogliamo dirla, due ore e mezza è lunga la messa armena. È importante come tempo, quindi vuol dire che la nostra è troppo breve? Sembra breve? Secondo me era più lunga, ma è stata accorciata per rendere meno fastidioso per la gente, magari perché... Non fastidioso, in realtà c'è stato il Concilio Vaticano II che ha rivisto tutto il concetto negli anni Sessanta, se no la messa in rito antico era anche per noi uguale, era due ore e un quarto, erano tutti uguali alle fine. La messa in rito antico si faceva fino agli anni Sessanta-Tré. Ma è certo che è stato sicuramente un po' comodo, perché adesso la gente ha sempre meno tempo, perché tra i fedeli dovrebbero prendersi il tempo che serve, quindi se sono due ore e mezza, non si prende il tempo che serve. Oggi come oggi la gente scappa prima. Io ho visto spesso i fedeli arrivare a un certo punto, quando era già iniziata, e dopo un certo punto andare via. Quindi forse è stato un po' meglio, diciamo, soprattutto per noi italiani, accorciarlo un pochettino. E comunque chi ci deve andare ci vada dall'inizio e resti fino alla fine. Questo piccolo consiglio personale, perché altrimenti se no sembra che andiamo solo per farci vedere. Questo sto parlando di tradizioni, allora tu mi confermi che nella tradizione armena non è solo come capita spesso in Italia, che alla messa delle undici ci sono le persone che devono farsi vedere, soprattutto prima delle votazioni, succedeva così, che devono farsi vedere in parrocchia, eccetera, eccetera, invece no. Succede dappertutto. Succede un po' dappertutto. Vabbè, insomma, io ero abituato ad andare alla messa del fanciullo, quando erano in certi periodi, e poi qualche volta anche il sabato sera, o anche di domenica pomeriggio, se si va in qualche chiesa dove c'è una messa particolare, magari si va dai fratti o cosa, quindi anche lì, però bisogna avere la voglia di andarci, se no quelle, diciamo così, di routine, sono quelle dove, vabbè, a una certa ora bisogna farsi qualcuno, qualcuno deve farsi vedere, altri ci vanno per convinzione, senza bisogno di essere visti e senza bisogno di farsi notare. Però sono delle belle tradizioni e quindi anche lì hai cominciato a cantare, poi da lì ti sei trasferita però ad altri palcoscenici un po' più importanti. Diciamo che la chiesa mi ha molto aiutata, perché era il modo per me di cantare anche in pubblico, perché ho cominciato molto giovane ad andare alla chiesa e mi dicevano Karin dovresti veramente andare a lavorare la voce, eccetera, è così che ho cominciato dopo al conservatorio, ciò che imparavo lo mettevo in pratica se volete, mentre cantavo la messa e mi doveva l'opportunità di cantare in un certo modo in pubblico. E quindi poi il pubblico nel palcoscenici più grande già non ti fa più paura, perché se uno è abituato, indubbiamente. Da un certo abitudine sì, di avere il pubblico presente sicuramente mi ha molto aiutato. Allora prima di andare avanti magari un pezzettino di filmato, lo vediamo che così, perché la gente ama anche rendersi conto di qualcosa, quindi eccoci qua. Un po' meno su la macchina, se la mantiera guarda la vedistù, vola a ciocca, vola a ciocca. o quella torni me in questa sera oppure nasconderte tipo l'andò, tipo l'andò e però beh, congratulazioni caspita grazie ecco, così avete anche capito perché vediamo gli ospiti però capiamo anche cosa si va a sentire nello spettacolo questa è la parte dello spettacolo cantata nello spettacolo una delle tue specialità però è anche quello di avere i costumi dei soldati che sono bellissimi qui abbiamo avuto gli ospiti quindi c'è anche qualcosa di quel reparto nello spettacolo? no, diciamo quella è un'altra associazione che si occupa di storia militare e che non c'entra in questo caso non ci sono no, sono due cose diverse però è sempre la storia sostanzialmente noi ci occupiamo di portare la storia e la cultura veneta in questo caso che voi avete sentito ad esempio adesso ecco, vedete in onda la locandina della giornata di domani e dello spettacolo quello che avete sentito adesso ad esempio insieme all'orchestra regionale dell'evento della filarmonia l'ORV è la regata veneziana di Rossini perché tanti compositori avevano composto in lingua veneta compreso lo stesso Rossini Maier, tantissimi altri Buzzolla e ne abbiamo insomma tantissimi perché la lingua veneta che generalmente dopo ovviamente sostanzialmente si potrebbe dire il veneziano perché era la cosa più diffusa però c'è proprio una cultura forte su questo nel senso che noi veneti come popolazione, come con storia e come è stato oltre a essere stato millecento anni però abbiamo lasciato soprattutto una cultura enorme che va in qualsiasi campo dalla pittura, la scultura, l'arte, la musica e anche la lirica la lirica è un po' meno conosciuta un po' meno conosciuta perché diciamo fine con la caduta della Repubblica e l'arrivo poi diciamo dell'unità d'Italia e con le opere verdiane ovviamente gli impresari riempivano ovviamente molto di più con le opere verdiane nel momento pensiamo anche al periodo del risorgimento e quindi è andato un po' via via perdendosi la cultura sulla lirica in lingua veneziana o veneta però è stata dopo ripresa solamente che adesso sta un ritorno infatti dopo se vedremo un secondo filmato invece sarà quello di Giustina Renier un'altra artista che si occupa invece di poesie in questo caso se potremo sentirla si occuperà ad esempio della poesia patriotica del Dall'Ongro, Ianei, Idei e quindi sentirete la stessa lingua che sono passati 200 anni quasi però ancora è capibilissima è uguale a quello che parliamo noi oggi ecco io stavo guardando che ho dimenticato di segnalare per esempio è già qui? sì sì esatto grazie a tutti la stessa è passata povera, disgraziata ma non ho visto ancora lo sposo che mi adora avevo avevo qua l'anello perché sposasse il mar l'ho perso fin a quello ma i Dei non gli vuoi dare grazie a tutti ho visto ho visto il bucci in toro brusò per torghe l'oro ho visto i miei cavai in Francia trasportai ma in cuore in cuore mi si resta l'amore di libertà e se sentai a lei mi resta ancora i Dei ho visto ho visto i miei palazzi vedi lui per quattro strassi e mi sapevi il righetto ti sia e ti intoretto mi aspita nei secoli resta uguale ecco questa è la cosa da ricordare e quindi quello che vuole dimenticare di dire prima 349 06 34 349 se volete fare un commento se volete chiedere qualcosa ai nostri ospiti ripeto 349 06 34 349 voi sapete solamente sms o whatsapp perché ovviamente quello che non può andare in diretta quindi possiamo solamente eventualmente leggere e lo ricordo per il solito sistema di privacy che poi li cancello subito quindi non restano tracce dei vostri messaggi ecco così non andiamo andiamo ormai bisogna stare attenti quindi è molto molto importante io specifico io li leggo se ci sono i cognomi non li leggo leggo solo i nomi di battesimo e poi cancello anche per la memoria del telefono in realtà se no di settimana in settimana si appesantisce però questo è fondamentale ecco bello vedere come la cultura veneta stia un po' rifiorendo no? sembrava un po' messa un po' in un angolino in un cassetto però stanno venendo fuori un po' tutte le cose per esempio insomma pensare in effetti me l'avevi ricordato tu una volta ma immaginare di avere dei libretti d'opera in Veneto non è una cosa conosciuta da tutti uno immagina insomma i libretti servono per riuscire a capire cosa dicono perché nel canto nella modulazione non sempre le parole sono tutte comprensibili molte sì però insomma bisogna intanto avere la voglia di ascoltare perché e allora è più facile se uno c'è anche i libretti ma non lo segue anche con più facilità perché allora si può dedicare alla musica perché l'occhio vede le parole giusto e allora se sente la bella modulazione della voce come interpreta quella frase però non immaginavo che esistessero e adesso tu mi dici che ci sono proprio libretti di opere in Veneto e per te facili da cantare perché uno che ha imparato da piccolo a cantare in armeno canta anche in Veneto cioè non c'è difficoltà no non c'è nessuna difficoltà dal momento che si sa cantare si può cantare in tutte le lingue ecco ma e ci io canto anche in francese in tedesco in russo allora anche in italiano ovviamente sì per certo a parte le congratulazioni però lì ci sono non ci saranno in tutte le lingue i libretti perché le opere sono credo in un po' di lingue poi ci sono gli autori di ogni stato avrei i suoi però quelle più più conosciute quelle insomma saranno in due tre lingue ognuna c'è una lingua sola e si usa quella in tutto il mondo perché ci sono le traduzioni per le opere sì 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 c'era tutta una epoca di tradizione ogni paese faceva l'opera nella sua lingua l'opera comic era un luogo dove le opere si facevano per esempio in francese come l'opera comic a Berlin faceva tutte le opere in lingua tedesca anche la Volksoper di Vienna una grande parte delle opere ancora in lingua tedesca e anche l'opera comic di Berlin ma all'opera comic di Parigi le cose sono cambiate è diventato ben più raro di vedere un'opera in lingua originale per esempio in italiano di sentirlo in francese di solito facciamo in lingua originale anche questo questo non sapevo che ci fosse anche la traduzione perché già non è facile cantarle ripeto nella lingua originale però se devi seguire la musica credo che ci sia lo stesso problema che hanno i doppiatori dover stare con i dialoghi all'interno di quello che è il labiale che si vede sul video quindi non lo so nel cambio di parole deve essere difficile immagino se io non ho idea di come si possa tradurre un'opera però non deve essere facile allora bisogna essere un specialista perché non si tratta solo di tradurre perché bisogna adattare adattare alla musica credo sia quella la parte difficile che sia cantabile con le silabiche che va con la musica che gli accenti siano ai posti giusti senza tradire il pensiero principale ovviamente esatto è una bella storia è un lavoro è un lavoro immagino i librettisti sono là per quello però è un mestiere anche direi difficile perché quello che deve fare questo lavoro qua poi deve immaginarsi come uno lo canterà se uno però non è un cantante non è facile immedesimarsi poi nelle potenzialità che dovrà esprimere quindi veramente librettista era un mestiere è un mestiere ancora dottore insomma per chi dovesse fare un'opera qualcosa di enorme ecco sono quei mestieri che stanno sparendo o sì forse sì no diciamo che non si compone così tante nuove opere sì ci sono qualche creazione mondiale ma non è come come una volta una volta c'era il lavoro di creazione è diventato più più raro secondo me ma secondo te perché mancano gli artisti in grado di scrivere un'opera o o perché non c'è non c'è la voglia di impegnarsi sul perché adesso finché a fare una canzone da 4 minuti uno dice c'è un certo tipo di impegno per la musica e per le parole cominciare a parlare di andare oltre un'ora con atti con e poi immaginare le scenografie queste cose qua c'è un problema anche di costi nel senso che al giorno d'oggi ad esempio c'è un'opera in lingua veneta che è una delle uniche fatte da Buzzole Buzzole è un compositore nostro qua a Veneto e si chiamava la putta onorata che non l'ha più finita e da questo punto di vista ad esempio mancherebbe l'ultima parte sarebbe da finirla però ad esempio anche solo finire un'opera che ha fatto un'altra come tipo Mozart per il Requiem che è stato finito un altro è chiaro che non è una cosa di due minuti poi devi calcolare che se tu la fai per cosa la fai? La fai per dopo metterla in pratica e metterla in pratica è un costo molto alto perché adesso anche mettere la più minima opera fatta in maniera iper iper a risparmi ti vuoi sempre 30 mila euro che è la più risparmiosa poi vai a opere vere che incominci perché dopo bisogna capire che dietro questo mondo c'è un mondo di una marea di gente che lavora cioè quando si fanno opere come la Scala costano 2-3 milioni di euro caspita ma lavorano 300 persone però è complessa la cosa cioè dal minimo al massimo c'è un grande mondo bisognerebbe un compositore che conosce molto bene il lavoro di Buzola per poter finire nella maniera di e conosce bene le voci per poter scrivere ovviamente e la lingua veneta per poter ovviamente il libretto di Goldoni no? beh quindi sì effettivamente non è facile ecco questa è una cosa io ricordo la regia quando vuole la telefonata Giovanna e e quindi sì certe cose possono restare lì fino a quando qualcuno le prende in mano è un peccato però perché opere incompiute insomma diciamo che è un peccato soprattutto per la nostra cultura perché il discorso è questo mentre per ad esempio per gli armeni se lei avrà caso di conoscere gli armeni beh ad esempio qua adesso voi siete di Padova avete la Aslan la famosa scrittrice che effettivamente ha dato un contributo soprattutto alla cultura armena molto valida molto ampia e molto conosciuta tra l'altro con il suo film insomma da qui dopo è stato fatto fatto il film insomma la masseria sì la masseria della lodole però in realtà noi veneti rispetto a altri dovremmo avere più interesse verso la nostra cultura perché non parliamo di una cultura minoritaria oppure semplicistica che alla fine senza sottolineare altre culture però Venezia la Repubblica di San Marco e prima ancora i veneti quindi i veneti antichi erano un lustro per un faro per il mondo insomma cioè non è che qui qua sono nate quasi tutte le scoperte la cultura era una una culla della civiltà sostanzialmente europea l'80% delle opere letterarie e su libri e cartacee era fatto a Venezia fino al 1790 cioè se guarda i grandi compositori i grandi scultori i pittori i grandi artisti noi viviamo in una regione in un ex Stato diciamo che alla fine ha dato tantissimo continua a dare e c'è stato solo un breve periodo che magari la cultura è stata un po' più bristattata quindi diciamo dal periodo del fascismo agli anni 80 e 90 1980 poi è cominciato di nuovo a ritornare al suo posto e sta tornando al suo posto perché ogni Veneto dovrebbe a conoscere casa sua e la sua cultura prima di parlare nelle altre culture ci sta avvenendo più lentamente però sta avvenendo è notevole ormai la differenza che c'è rispetto a prima però e anche su certi stereotipi insomma sono stati tolti sui Veneti diciamo che c'è fortemente l'inquinamento magari della politica da questo punto di vista nel senso che ogni sinistra destro centro si usa un po' sempre la cultura per portarla a sua parte però torno a ripetere che la cultura prima si è Veneti e poi si è tutto il resto e la cultura è di tutti e quindi non ha un colore però deve avere un'identità e con l'identità che dopo tu conosci bene il tuo territorio e poi anche dopo vuoi semmai criticare le culture degli altri però prima devi conoscere la tua e quando vedrai che conoscerai la tua capisci che era una cultura molto più aperta anzi il contrario di ciò che si dice di un Veneto ad esempio adesso c'è la mania di dire ai Veneti sono razzisti niente di più niente di più assurdo di questa affermazione qua perché culturalmente il popolo Veneto è sempre stato aperto apertissimo abbiamo sempre avuto tantissime razze solo che ovviamente c'erano le regole severe i veneziani non erano tanto morbidi vabbè vabbè però però accettavano che ci accettavano chiunque voglio dire bastava che si c'era un'ampissima autonomia appunto se uno segue le regole e le regole quando sono fatte sono fatte comunque per tutti non solo per per chi entra sono fatte così uno deve semplicemente dire se le regole sono queste lo faccio anch'io se bisogna fare così si però il discorso è che la nostra cultura va conosciuta soprattutto prima cosa deve essere conosciuta in tutti i suoi ambiti ovviamente adesso nel caso ad esempio nel caso nostro di Incantarte si sono uniti tanti artisti di realtà diverse bravissimi artisti di categoria anche e che hanno accettato per la passione per la propria cultura o come nel caso della Carin del fatto di essere interessata a conoscere la cultura veneta e più che interessata è che io considero che ci sono ci sono musicisti autori che hanno fatto un lavoro di creazione e è un nostro dovere di fare conoscere queste opere un nostro dovere sì tra l'altro è molto raro che dei compositori stranieri hanno composto in lingua veneta porto ad esempio Rinaldo ha fatto non so adesso quante opere è così strano è così raro di trovare dei compositori che di solito scrivono nella loro lingua perché hanno apprezzato la lingua veneta sì era una lingua famosissima tutti innamorati di Venezia ovviamente Rinaldo Hahn Simon Meyer Beethoven che hanno composto la biondina ecco innamorarsi di Venezia probabilmente è facile ma credo anche del resto del Veneto perché in fin dei conti i compositori ad esempio a Verona no no ma era cioè Venezia era la capitale di uno stato quindi come per noi parlare adesso di Roma è chiaro che dopo ovviamente Venezia era una città ed è una città ancora particolarissima e dobbiamo pensare che lo stato Veneto era una cosa molto 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 particolare rispetto a tutti gli altri stati che c'erano in Europa e quindi anche il concetto di cultura andava esattamente in maniera anche vissuta anche in maniera un po' diversa perché ad esempio anche gli stessi patrizi veneti dovevano pagare loro per essere patrizi non lo stato pagava loro loro pagavano lo stato pur di essere patrizi veneziani perché era un onore loro dovevano pagare gli eventi che facevano se arrivava un ambasciatore se arrivavano di principi erignanti dovevano pagare di tasca proprio loro stessi dovevano finanziare tutte le opere quindi era un onore fare parte di queste 2.000 persone che gestivano il potere dello stato Veneto a livello oligarchico insomma è anche vero che nel momento in cui hai il tuo stesso obbligo di partecipare a quelle che sono le spese indubbiamente fai in modo che non rubi nessuno perché altrimenti rubate voglio dire mentre è più facile quando c'è qualcuno che mette là dei soldi e qualcuno si avvicini e rubichi qualcosa detta così abbiamo Giovanna? pronti eccoci qua ciao Giovanna allora intanto benvenuto candidato sindaco a Selvazzano dentro Giovanna Rossi wow buonasera a tutti ciao Claudia buonasera a tutti i tuoi belli ospiti qui abbiamo Karin e abbiamo Luciano perché sono qui a parlarci di una bella manifestazione che però con Incantarte sono stati anche a Selvazzano da noi sì sono stati da noi hanno concluso la nostra la nostra rassegna lirica per cui insomma ho ancora molto ben vivo il ricordo e anche di quella bellissima serata che abbiamo passato insieme per cui belli ospiti grazie Giovanna ecco noi ti passiamo ovviamente le congratulazioni perché finalmente si è sciolto questa mattina e buon Enoch finalmente ha detto Avemus il candidato beh insomma diciamo che noi siamo sempre molto impegnati perché noi fino al 25 di maggio se sarà il 26 maggio l'elezione perché non lo sappiamo ancora di preciso ma si presume di sì assieme alle europee lavoriamo continuiamo a portare avanti i nostri insomma impegni che io ho come assessore nei vari ambiti Enoch come sindaco però ovviamente le persone ci chiedevano volevano sapere volevano capire anche perché insomma c'è il desiderio di continuità almeno questo è quello che noi abbiamo nel cuore ce la metteremo tutta con la passione l'entusiasmo e l'umiltà che ci hanno contraddistinto in tutti questi anni portando altre opere altre cose importanti per questa città che amiamo tutti e quindi è vero sono passati già dieci anni e che sembrano un'enormità ma ci sono volati e ci auguriamo di continuare a volare ancora per tanti anni a Servazzano come dice il nostro slogan anche contro vento anche contro l'adversità come abbiamo fatto in tutto questo periodo ecco il fattore continuità è fondamentale perché l'impressione della popolazione è che i dieci anni siano passati bene e quindi una popolazione soddisfatta va in cerca che si continui a fare così credo che sia stata la soluzione migliore continuare con la stessa squadra anche se poi il capo sarà un altro per ovvie ragioni se non si può fare più di due mandati chiaramente non poteva continuare però c'è la continuità anche in un sistema di squadra assolutamente quello che è un po' la nostra forza anzi è la nostra grande forza è proprio una squadra unita compatta coesa un polo civico che poi si arricchisce di un'altra forza civica che è Forza Servazzano di persone che vogliono magari mettere un po' in disparte i propri anche i propri impegni i propri interessi personali a favore di una comunità e quindi saremo in tanti lavoreremo uniti e di cose belle da fare ce ne sono tante ne abbiamo anche già un po' parlato stamattina perché abbiamo un teatro abbiamo impianti sportivi abbiamo scuole da sistemare abbiamo l'acquisizione di Villa Cesarotti che diventerà un altro polo culturale importantissimo come vedi noi stiamo lavorando nel presente ma siamo già proiettati in tutto quello che ci aspetta se i cittadini penseranno e desidereranno che noi continuiamo questa avventura ecco c'è subito e c'è sempre stato un interesse per quello che è la cultura veneta perché è stata curata quindi sarà anche questa una cosa che nella continuità potrà essere anzi approfondita immagino guarda noi abbiamo anche una delega precisa che è appunto la valorizzazione del territorio stamattina Enoc parlava di selvazzane selvazzanesi nel senso bello del termine nel senso dell'amore che abbiamo per la nostra terra di quanto dobbiamo alla nostra terra di quanto possiamo valorizzarla attraverso la cultura attraverso la cura dell'ambiente attraverso riportare magari delle tradizioni che sono andate un po' dimenticate o un po' perse riportarle alla luce per cui c'è questo anche grande sforzo interesse come abbiamo sempre fatto in questi anni peraltro ecco quindi ci tenevo ad averti ospite perché l'ho chiesto mille volte vorrei essere uno dei primi a poterlo dire in trasmissione a parte qualche ITG sicuramente siamo i primi con la telefonata in diretta ma io ve lo devo perché Caffè24 ci state veramente sempre molto vicini e io Claudio lo sai che ho una sorta di non posso non avere una grande riconoscenza per te per la tua emittente per le persone che credono in noi e che ci hanno accompagnato e ci accompagnano praticamente quasi tutte le settimane Sì ciao Giovanna volevo ringraziarti per lo sforzo che hai fatto soprattutto come amministratore per portare la cultura venta a Selvazzano perché devi sapere Claudio che la Giovanna quando abbiamo fatto la proposta di fare lo spettacolo di lirica prosa poesia di incantarte i sospiri veneziani lei è stata tanto subito colpita e piacevolmente ha detto sì dobbiamo farlo ed è stata di parola dopo due anni è stato e ha detto e ha fatto e quindi amministratori che tengono la parola siccome ce ne sono anche pochi è meglio tenerseli buoni e se visto che sei candidato sindaco benvenga perché sicuramente Selvazzano guadagna ancora di più grazie Luciano mi fa molto piacere di sentirti dire queste cose ma effettivamente sai poi mi hai un po' facilitato nel mio compito perché devo dire che il connubio musica teatro racconto è stata una serata molto complessa molto bella e di alta qualità per cui tutto sommato sono stata un po' facilitata nel mio compito certo che siamo dell'idea tutti noi e qui devo dire che abbiamo un grande esempio nel nostro attuale sindaco che è un uomo veramente un uomo che lavora che dice le cose che può fare oppure con molta onestà intellettuale spiega le motivazioni per cui non si possono fare siamo insomma persone del fare delle opere non del dire dell'urlare magari in piazza o dire a volte insomma cose che poi tanto sappiamo tutti che non vengono mantenute perché poi alla fine è un po' il segreto di pulcinella e ti si girano sempre contro e non è proprio nel nostro stile e nel nostro modo di lavorare ma del tipico Veneto esattamente ecco in maniera diversa da quello che è il sistema latino che spero prometto euro reggano l'infinito futuro futuro futuribile futuro per sempre esattamente spesso il futuro che sfugge nel tempo esatto Giovanna grazie grazie perché ripeto ci tenevo a essere uno dei primi in una trasmissione ufficiale non in un TG a fare due chiacchiere con te e ci siamo riusciti e che di noi possiamo solo dire in bocca al lupo continuiamo a seguirti e a seguire soprattutto le mille iniziative perché Selvastano è patante grazie io rispondo con anche la passione che ho per gli esseri gli animali come tutti sanno perché chi mi conosce lo sa bene tu mi dici in bocca al lupo io rispondo con grande orgoglio e viva il lupo grazie Giovanna buona serata un abbraccio a tutti buon fine settimana grazie un buon a tutti altrettanto grazie ciao ecco sì hai detto una bella cosa Luciano proprio nel fatto che lì magari non si riesce a fare una cosa subito però se si dice che si fa viene fatta ecco la squadra ha sempre funzionato così e non potrà essere diversamente con Giovanna perché tanto quelle sono le cose in cui si sono messi d'accordo all'inizio e quindi se si fa così si continua a fare così ecco e vogliamo ricordare completamente dove siamo dove siamo domani gli orari tutte queste cose perché poi la gente pare ma sfugge invece non deve sfuggire lo ripetiamo praticamente domani alle 5 alla auditorium di Trebaseleghe che è vicino al comune proprio dietro il comune ci sarà Da Jerevan a Venezia che è l'incredibile storia di queste due culture armene e veneta è uno spettacolo ed è un incontro storico quindi diviso in tre parti una prima parte storica lo spettacolo centrale e il finale sempre storico e quindi sarà un incontro tra due realtà quindi ci avrà musiche lirica quindi veneta e armena e poesia veneta e armena quindi per la prima volta messi insieme ovviamente ci sarà soprattutto saranno i temi toccati che è la legione la storia e la cultura mentre per gli armeni il finale sarà che si andrà col discorso del genocidio per i veneti sarà l'immigrazione siamo a un mese esatto perché fra poco sarà un mese il genocidio di armenio e invece per i veneti si parlerà dell'immigrazione del 1870 in poi dopo l'unità che è stata una tragedia sostanzialmente per i veneti è quel momento in cui hanno dovuto scegliere e hanno fatto quella specie di plebiscito po' guidato diciamo che dopo l'immigrazione è stata in tutta Europa attenzione però sul Veneto ha colpito forte adesso non che le altre parti d'Italia non è perché ad esempio l'Emilia Romagna il 40% il Veneto il 51-52% però da lì sono cambiate notevolmente le cose e anzi i nostri l'immigrazione è stata dura non sono andati a divertirsi nel senso che si avevano l'idea dell'America America ma chi è finito invece che in America nel nord è finito in America nel sud e addirittura ancora più giù addirittura sono stati usati al posto degli schiavi perché si era appena abolita la schiavitù e quindi è usato il posto di schiavi tanti morivano in nave i preti nostri non volevo che partissi addirittura è stato veramente una trasera iniziale poi le bravi veneti hanno rifondato città e quindi adesso tanto che il Brasile rimboccandosi le maniche come si usa il Brasile la seconda ufficiale lingua è la lingua veneta che loro chiamano Italiane che lo chiamano? Italiane perché Italiane ha un senso perché siccome quando arrivavano là non parlavano né l'italiano e né parlavano il portoghese allora dicevano ma voi cosa parlate? allora siccome non sapevano cosa dire noi non parliamo italiano parliamo Italiane cioè perché secondo loro era una via di mezzo tra le due lingue in realtà non sapevano neanche più cosa cioè era il Veneto che si è esistito ecco certo che addirittura cominciamo a trovare grandissimi artisti che hanno cominciato a scrivere libretti in lingua veneta in tempi non sospetti sì ma anche la stessa Divina Commedia nel 1800 del Cappelli non l'ha tradotta in lingua veneta però ai tempi è sembrato quasi difficile che riuscire a ottenere un riconoscimento di lingua veneta nonostante tutto diciamo che allora se le portiamo i giorni nostri di adesso c'è un problema intanto la lingua veneta non è il dialetto dell'italiano questa è una stupidaggine primo perché nasce molto prima appunto anzi chi ha ufficializzato e decodificato la lingua italiana sono i veneziani con la famiglia Bembo nel 1500 e quindi partiamo già da questo poi lo stesso latino ad esempio aveva quattro tipologie c'era il colto il latino colto il latino colto e dopo il volgare e il vol cioè anche là c'erano le varianti stessa cosa è stata anche come il veneziano c'erano le varianti come la lingua è normale la sfortuna è stata che nel 1700 il senato quando si parlava di codificare il veneziano quindi la lingua ufficiale dello Stato Veneto la conoscevano già tutti per loro è sembrato inutile mentre la lingua latina che la usavano solo diciamo le classi colte e il clero la lingua italiana era vista come qualcosa per una certissima parte tanto è vero che fino alla seconda guerra mondiale quel fascismo che faceva l'abecedario anche in lingua veneta per far capire l'italiano era parlata dal 3-4% della popolazione cioè quindi noi abbiamo parlato cominciato a parlare l'italiano dagli anni 80 si potrebbe dire che prima chi parlava quasi nessuno comunque adesso è riconosciuto come lingua quindi siamo sì diciamo il problema è che dovrebbero unirsi diciamo i più e massimi esperti e definire come si potrebbe fare per decodificarla o comunque trovare una forma che dopo sia quella punto il problema è che ovviamente ci sono come per gli accademici 10.000 visioni diverse bisognerebbe capire un attimo cioè si sta facendo però stanno venendo fuori di quelle storie pazzesche ma è tipico di Veneti come fosse le varie chiesette dei vari quartieri ognuno di avere questo individualismo è un vantaggio ma è anche uno svantaggio allora ho guardato sono arrivati i quattro messaggi tutti quanti di complimenti perché fra l'altro uno dell'amico Toni che non è italiano e che apprezza comunque la lingua veneta e la conosce fra l'altro e quindi ecco veramente congratulazioni noi ricordiamo però che domani c'è lo spettacolo che è gratuito ecco altra cosa piuttosto importante noi facciamo sempre sostanzialmente il 90% dei nostri spettacoli è gratuito perché ci accordiamo proprio con gli amministratori come la Giovanna dove il comune dà un contributo gli artisti pur di portare la cultura veneta ci siamo accordati insieme alla regione veneto questi tutti i grandi artisti dove accettano e alla fine è un lavoro di squadra di un insieme di persone e quindi pubblico privato e regione e alla fine dà gratuitamente a tutti uno spettacolo di qualità e di due ore generalmente perché sono sempre il minimo di due ore ecco per riuscire a seguirli se andate a guardare io ho visto che c'è la pagina facebook di Cantarte c'è anche il sito però tra l'altro e quindi o cercate Luciano Dorella lo trovate e quindi potete restare sicuramente aggiornati perché di volta in volta vengono segnati so che tu però a parte fare queste belle cose ogni tanto canti anche al di fuori appena tornata a Parigi esattamente quindi intanto le nostre congratulazioni le prossime cose sai già hai già l'idea di dove sarai e a cantare cose devo andare a fare un tournée in Germania sì sì li canti in tedesco ovvio vabbè carini e che dirti le nostre congratulazioni per forza perché più poliedica di così voglio dire perché dal tedesco al francese all'armeno al veneto se la regia può mandare l'ultimo due minuti del pezzo di Cari della regata veneziana se ce la fanno potrebbe essere sì anche perché mancano secondo me due minuti esatti allora che dire al finale ecco è stato di parola il regista detto fatto è stato estremamente di parola il regista veneto detto fatto esattamente allora ragazzi che dirvi grazie grazie e congratulazioni perché ogni tanto c'è qualcosa di nuovo e io vedo che rinnovate gli spettacoli e quindi a presto con con qualcos'altro quando riuscirete magari o vi viene in mente di organizzare qualcos'altro noi siamo qui ovviamente se possibile per darvi una mano a far conoscere questa cosa per noi è un dovere cioè portare la cultura avanti è un dovere quindi oltre che un piacere è un dovere tutte le opere di creazione devono essere valorizzate per me come artista vedo questo come qualcosa di molto importante per me e allora nel senso continuiamo anche noi e nella continuità prossima volta siete qua di nuovo grazie a tutti adesso sapete cosa fare domani ovviamente e per il resto io fra un po' passo a livello radiofonico venerdì prossimo sono ancora qua a casa caffè grazie a tutti un buon weekend un grosso abbraccio e che sia di grande felicità per tutti quanti e di divertimento per chi va a seguire lo spettacolo ciao a tutti grazie di nuovo grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti